Il dado è tratto e adesso bisognerà repensare al lato sportivo. Rimane, dura da digerire, una ripartenza alla prima categoria, ma bisogna metabolizzare e ritrovare da qualche parte entusiasmo ed orgoglio. Dovrà provarci l'FC Gela, diventata di colpo la prima società calcistica locale dopo la scomparsa dello storico delfino Biancoazzurro. E' stata una settimana dura, carica di tensioni e polemiche, dove poco si è parlato di calcio, anzi zero, e tanto di politica, regolamenti, etica e affidabilità. Ieri il sindaco greco ha risposto a Maurizio Melfa, deluso ed amareggiato per la non scelta della commissione del suo progetto. Il primo cittadino ha replicato stizzito. La nostra scelta non è ricaduta su dilettanti allo sbaraglio, ha detto, ma su un gruppo che dà maggiori garanzie, avendo, tra l'altro, dimostrato nel passato di saper gestire e conseguire risultati di rilievo assoluto, come la conquista per la prima volta della Serie C1, il riferimento è a Giuseppe Cammarata, ed il titolo Juniores. Greco ha difeso la commissione. Non bisogna spargere sospetti e veleni e non bisogna mai perdere il rispetto verso gli altri, con il rischio di mettere in gioco il valore delle persone. Ieri anche l'Efficigela ha rotto il silenzio in attesa di una conferenza stampa in cui saranno presentati staff e programmi. La società ha difeso la sua, seppur giovane, storia, fatta di gelesi che hanno fatto sacrifici immensi, vincendo due titoli regionali con la formazione Juniores, arrivando anche agli ottavi di finale. Ottavi che sempre gli stessi gelesi hanno onorato con sacrificio, seppur raggiungendo la Puglia una manciata di ore prima dalla partita, perché il club bianco-azzurro non voleva far partire il gruppo per questioni che nulla hanno a che vedere con il calcio. Questo gruppo, hanno detto in una nota, intende far semplicemente calcio e non carriera politica sulla pelle dei tifosi. Adesso però è tempo di mettersi al lavoro con la stessa serietà e convinzione, seppur in prima categoria. Si ricomincia dunque dai campionati semi-amatoriali, senza guardialine e con le difficoltà del caso. Per tornare al calcio che conta, ci vorrà pazienza, dedizione, soldi, strutture ed entusiasmo. Grazie a tutti.